A De Wale, la tua ambizione non mi aggrada, ma ho promesso di aiutare Augustin. Che cos'è? Un falso documento, o così dicono. Ho opera di una delle tue reclude. Joaquin François, Henri Marchand, Fortuné Jean. Bene, vi farete onore in questa spedizione. Louis Godin incontrerà il portuale per sistemare ciò che manca per la sua spedizione. Così avrete l'opportunità di sostituire i documenti. Al tuo segnale, noi saliremo a bordo. Grazie. E grazie a te, Bastien. Lo faccio, per i marron di Santo Domingo. Prends l'opportunità di Stefano. L'opportunità di Stefano. Je neavo che. L'opportunità di Stefano. Grazie per aver scelto la vostra industria vicenda. Sono io a ringraziarvi. E ora devo andare a un amico di sport. Tutto nel nome della stella. Certo. 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 Non fido che i preparativi procedano bene, del resto qui separisce un movimento. Esatto. Come vedete, i miei uomini lavorano pronto per preparare. Avrete una nave perfetta, adatta a ogni necessità della scienza e alle... altre attività. Guarda, altre attività. Non dovete temere nulla. Penseremo noi a solito. Mi resta solo da sistemare la faccenda dei miei uomini. Nell'ultima settimana abbiamo aperto diversi uomini della guardia cittadina. Due uccisi e tre presi prigionieri. Venite, vedrete loro. Se qualcuno si farà avanti con informazioni utili per i naturali colpevoli, verrà ricompensato degnamente. Non possiamo più tollerare questi orrendi crimini. Sì, vedrete. Sì, vedrete. Anche a te apri in auto. Non sopra. Ma non toglierà spazio che potrei usare in alcun momento. No, nulla di simile. Vi prego, non si ho potente. Non vuole la faccenda. Questa è la scuola. Sono certo che non avrete la scuola. No, nulla di simile. Non sopra. Meriti un'altra occasione. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Capitano, con un cuocco ora affondiamo. Ricorta! Suoco! Prego solo acqua! Buon capitano è il migliore! Fuoco! Andune pronto! Pronto, capitano! Fuoco! Guarda, basta un colpo ben piazzato! Ebbene voglia di nuotare? Pronti a ruggire! Chiudete gabbie e controvelacchi! Fuoco! E' il diavolo che manda un tempo così! Sparagli, capitano! Via dal vento! Chiudete tutte le vele! Chiudete tutte le vele! Chiudete tutte le vele! Arrivate il livello! Brite in trevi! Fuoco! Aprite i trevi! Fuoco! 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 Capitano! Quanto! Attento! Fuoco! Quasi pronti! Al tuo segnale! Ammainatele bene! Fuoco! Con la gola esposta! Spare al capitano! Colpiti il capitano! Merda, mancato! Fuoco! Riparate i trevi! Ci vorrà tempo per riparare! Facciamo subito! Fuoco! Fuoco! Un buon colpo, la sistema! Fuoco! Fuoco! Guarda! Basta un colpo, ben piattato a lei! Il capitano è in visione! Ma è solo il cuore dell'inferno! Ribordo, Edward! Faccio un carico, signor!